Isabel Goulart Isabel Goulart alla PFW, splendida in un Valentino grey e nevite Isabel Goulart, la sua bellezza brasiliana per Valentino Tra le modelle che portano alto l'onore della moda italiana appare una splendida Isabel Goulart, la brasiliana si staglia come una dea greca della bellezza sul vite carpe della sfilata di Valentino, con un abito dello stilista declinato nei toni grey e nevite Il rosso iconico che ha portato la Maison alla leggenda? Non è stato adottato in questo outfit per la nuova collezione Primavera Estate 2018 presentata alla Paris Fashion Week, ma quel fuoco tipico delle cromie valentiniane, lei, ce l'ha nel suo sangue carioca L'abito? Si tratta di un long dress e metà gamba, con un romantico e principesco off-shoulder e finissime plisse che ricoprono interamente il vestito Su questa visione paradisiaca il contesto non può essere più giusto visto che anche Isabel è un angelo appaiono alcuni dettagli in verde shocking, color smeraldo è la cucitura superiore della scollatura a barchetta, così come il fiocco morbidamente stretto in vita e la mini pochette che porta in mano Valentino è attentissimo anche ad abbinare i colori con le origini della modella, la borsetta, in effetti, è proprio verde oro, colori tipici della terra brasiliana che ha dato i Natali alla Goulart La modella è molto emozionata per la sua partecipazione alla sfilata del grande stilista italiano, come dimostra chiaramente nel post antecedente lo show, dove posa con estrema eleganza mentre sale in macchina, ma la ragazza non è assolutamente alle prime armi La sua carriera è iniziata quasi 20 anni fa e il fatto che abbia soltanto 33 anni ci fa capire che la brasiliana ha iniziato da giovanissima a farsi notare dal mondo della moda, aveva, infatti, soltanto 14 anni per i suoi primi momenti da top model Da allora, Isabel non si è più fermata, sfilando per le più grandi Maison di alta moda del mondo, da Chanel, a Ralph Lauren, a Bottega Veneta, e, ovviamente, a Valentino Isabel Goulart, un angelo raffinato alla mostra del cinema. Una grande top model come Isabel Goulart ha alle spalle una carriera sconfinata già a 33 anni e, ovviamente, la sua strada è ancora lunga e la stricata d'oro Le casati di Outeculture desiderano averla come testimonial, ora e come vent'anni fa, ma oltre alle Maison citate ce n'è anche un'altra che le ha portato davvero tanta fortuna Come Bianca Balti, nel 2005 la modella è stata selezionata come splendido angelo di Victoria's Secret, per cui ha militato per diversi anni, fino al 2016 La sua eleganza, notata dalla Maison di Lingerie per tutto questo tempo, è stata ulteriormente esaltata anche di recente, alla mostra del cinema di Venezia, lì, insieme a Isabeli Fontana, ha sfilato sfoggiando i maglioncini della splendida collezione Rainbow Week di Alberta Ferretti, posando come una leggiadra ballerina su una gamba sola per i fotografi in attesa sul red carpet La sua eleganza, notata dalla Maison di Lingerie per i fotografi in attesa sul red carpet